Nuovo sito per il consorzio turistico Porte di Valtellina. Il portale realizzato da Betsoft si presenta con una grafica rinnovata definita sull'identità del logo aziendale e seguendo un layout di colore personalizzato sull'usabilità da parte dell'utente. L'esperienza da parte del visitatore è stata infatti la linea guida privilegiata per lo studio del sito. Considerato che il 70% degli attuali utenti consulta il sito da smartphone sia optato per una piattaforma altamente responsive e mobile friendly. Ampia visibilità viene data agli eventi, statisticamente sempre tra le pagine più visitate e apprezzate. La visualizzazione degli appuntamenti può avvenire in più modi con motore di ricerca ed elenco, con un comodo calendario mensile o giornaliero che consente anche di salvare la manifestazione che interessa nella propria agenda. Il nuovo sito offre inoltre la possibilità di iscriversi alla newsletter per essere costantemente informati sulle iniziative di rilevanza turistica, culturale, enogastronomica e sociale che si svolgono nel mandamento di Morbenio. Non mancano inoltre le sezioni utili alla consultazione da parte di cittadini e turisti al fine di mettere a disposizione sempre maggiori e migliori informazioni relative al territorio, news, meteo, passi alpini, webcam e la possibilità di sgaricare i file pdf.